corcelli sala scottoni subito bira real pericoloso colpisce un palo non viene premiato ancora roma limite dell'aria di rigore fermato da due avversari 12 si ricomincia il centrocampo prova l'imbeccata in aria e gol assegnato verso la roma attenzione il bira real 2 contro 2 salta l'uomo tiro e grande ancora l'uscita del portiere della roma e che riparte in contropiede riesce a saltare un uomo poi viene salta 2 sul piede sinistro prima di colture col destro attenzione di punta il bira real che costringe il portiere della roma tonnini ad un intervento con i piedi e anzi come abbiamo detto forse risultato in questo momento più giusto sarebbe il pareggio attenzione bira real ancora e bravissimo tonnini che sta facendo veramente la differenza nella sua squadra con un intervento da difensore praticamente in scivolata salva la sua porta attenzione ancora la roma in aria di rigore e gol raddoppio della roma 2 a 0 forse nel momento migliore del bira real ma tant'è che in questo momento la roma conduce 2 a 0 recupera una palla attenzione bira real solo e ancora tonnini una straordinaria parata veramente bravo questo portiere veramente molto bravo ottimo numero se ne va in mezzo a tre e qui gran tiro da fuori aria e gol questa volta tonnini non può fare nulla e il punteggio al diciassettesimo minuto cambia roma 2 bira real 1 abbondantemente alta attenzione ancora bira real limitata solo l'aria di rigore e grandissima parata ancora di tonnini ora viene salvata dalla difesa del bira real e l'arbitro in questo momento manda le squadre negli spogliatoi il risultato finale il primo tempo roma 2 bira real 1 ottimo lo spazio del sinistro anche qui attenzione grande azione della bira real e ancora tonnini che salva spedendo la palla sulla traversa pallo laterale per la roma ma infatti credo che sia per la bira real infatti esattamente l'ultimo toccare è stato di tonnini bravo un lancio in profondità buono attenzione gran tiro è sfortunatissimo il bira real che una volta tanto che tonnini non era arrivato sul pallone ci si mette la traversa a secondo legno sa creare troppe difficoltà ancora nella roma limite dell'aria di rigore salta l'uomo e straordinaria parata del portiere a bira real che poi la palla torna tra i piedi dell'attaccante che spreca tutto mandando alto da posizione favorevolissima gli altri giocatori a bira real faticano a rientrare però riconquistano palla e provano il contropiede ma attenzione ancora la roma break difensivo uno contro uno se ne va l'aria di rigore e gol ha segnato la roma 3 a 1 dodicesimo minuto di gioco passaggi anche troppo forti tra loro si fanno è difficile poi controllarli attenzione e gol e la roma fa il 4 a 1 ma chiaramente non si può uscire sempre dalla porta e pensare che vada sempre bene puro ma preciso del difensore ma ancora una volta a bira real solo tonnini di piede salva la sua squadra ancora veronica palla fuori aria gol 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 della birra real 4 a 2 aria di rigore finta controfinta penetra in aria di rigore il tiro smorsato ancora una volta il tiro da fuori aria di esterno destro termina fuori gesto di stizza che calcia la palla lo vediamo ancora tranquillo in campo quindi non si è fatto nulla ancora a bira real prova il tiro e gol attenzione 4 a 3 a un minuto dalla fine 4 a 3 si riapre clamorosamente questa partita e queste occasioni devono essere sfruttate perché rischi di pagarle se poi in porta non hai un portiere come tonnini che è il migliore in campo in assoluto ancora a birra real però in fase attacco ancora a birra real però in fase attacco e ancora il suo portiere e gli viene rubata palla non c'è fallo se ne vanno 2 contro 0 porta vuota e in questo momento la Roma siga il 5 a 3 e l'arbitro fischia partita terminata in questo momento Roma batte birra real 5 a 3 il risultato tutto sommato giusto perché la Roma è stata più concreta termina in questo momento una partita veramente bella e aperta fino all'ultimo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti